Il progetto Street Tutor intanto è strutturato e organizzato con la collaborazione del gruppo Interforze Protezione Civile di Mantua ed in memoria anche a Ettore Gaetano che era uno dei fondatori di questo gruppo. Questo gruppo è stato assorbito dall'Associazione Comunale e collabora con noi e quindi insieme abbiamo pensato di strutturare questo progetto per la sicurezza e la qualità di vita del quartiere Valletta Valsecchi per percepire attraverso un questionario e capire esattamente la percettività della sicurezza nell'ambito del quartiere. È un questionario molto nutrito, cioè corposo, nel senso che abbiamo fatto delle domande intelligenti ovviamente per le quali poi ogni anno struttureremo ovviamente un grafico per capire di anno in anno quali sono le migliorie oppure i regressi nell'ambito del quartiere in senso proprio di sicurezza e di qualità di vita. I giorni sono martedì, giovedì e sabato. Sono quattro le persone che saranno in mezzo alla strada del quartiere per raccogliere questi dati. Non c'è un obbligo, però si chiederà alle persone se vogliono rispondere a questo questionario. Se ci sarà qualche problema di ordine pubblico noi riferiremo alla politica locale di eventuali problematiche che sorgono sul quartiere. Giranno nei punti sensibili e di raccolto ovviamente vicino ai supermercati, esercizi commerciali, nell'ambito delle vie ovviamente circoscritte al quartiere Valletta Valsecchi, ma questa non toglie che se poi il progetto funzionerà, si amplierà e ci saranno altri volontari, magari sarà esteso in altri quartieri della città.